Il 18 aprile 2014 il comune di Cellino San Marco fu sciolto per condizionamento mafioso con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro dell'Interno. A quasi un anno dal provvedimento sul comune si abbatte un terremoto giudiziario. Nella notte sono finiti in carcere gli amministratori che proprio in quel periodo avevano guidato il comune come l'ex primo cittadino Francesco Cascione, avvocato penalista di Forza Italia, Gabriele Elia, ex assessore da poco nominato da Luigi Vitali, vice commissario provinciale di Forza Italia. Lo stesso Vitali ha comunicato la sospensione dall'incarico. I carabinieri lo hanno arrestato nella tenuta Curti Petrizzilanne di Albano Carrisi dove risiede. L'operazione è condotta dai carabinieri di Brindisi che ha portato all'arresto di 14 persone, 3 delle quali al momento irreperibile ha raggiunto anche Lecce con l'ordinanza di custodia cautelare e domiciliari per gli imprenditori. Tommaso Ricchiuto, titolare dell'Egeco attualmente all'estero, Bruno Alfredo Bruno di Calimera, geometra dell'Egeco e Antonio Vincenzo Fasiello di Strudà, dipendente del Genio Civile. Gli altri arrestati sono Francesco Francavilla, Antonio Cozzoli, Omero Molendini, Macchitella, segretario cittadino di Forza Italia, gli ex assessori Gianfranco Quarta, Gianfranco Pezzuto e l'ex vicesindaco Corrado Prisco, il geometra comunale Ioni Pagano, Angelo Lippolis e Giuseppe Gigante. I reati contestati nell'operazione Do Ut Des, espressione latina che significa Do per ricevere, sono contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, peculato, corruzione, turbata, libertà degli incanti e calunnia. Secondo gli inquirenti, l'ex sindaco era capo di un'organizzazione criminale che pilotava sistematicamente gli appalti e i concorsi comunali in cambio di tangenti. Il consiglio comunale fu sciolto dopo la dettagliata redazione della commissione d'inchiesta presiduta dal prefetto Nicola Prete, che mise in luce quello che non andava nella gestione pubblica di Cellino e l'ordinanza. In molti punti la ricalca. Uno degli arrestati ritenuto vicino alla SCU, lo stesso sindaco, 42 anni, era sotto controllo per aver partecipato al funerale di un mafioso e per aver autorizzato un pregiudicato a stabilirsi presso delle strutture comunali. Grazie a tutti.